Associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato, omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi. Con queste accuse più di 60 persone sono finite in manette in un'ampia operazione scattata alle prime luci dell'alba. A finire nella morsa della polizia gli appartenenti alle famiglie camorristiche Giuliano, Sibillo, Brunetti e Amirante operanti nella zona di Forcella. Le indagini della squadra mobile di Napoli hanno permesso di documentare la formazione di un pericoloso cartello criminale composto per lo più da giovanissimi appartenenti a famiglie camorristiche storiche del centro cittadino. La polizia ha documentato anche la veloce ascesa del gruppo costellata di episodi violenti per scalzare gli esponenti dei clan rivali. Il sodalizio criminale gestiva le piazze di spaccio e le estorsioni in danno di operatori economici tra cui note pizzerie del centro storico, individuati dalle forze dell'ordine e gli autori di omicidi e tentati omicidi commessi per affermare la supremazia territoriale del nascente gruppo criminale. Ma a colpire è soprattutto la giovanissima età di molti degli arrestati un fenomeno non nuovo nel capoluogo campano, come spiega il procuratore della Repubblica Giovanni Colangelo. Sentiamo. È un dato che non è soltanto di questa indagine. Da tempo che registriamo tutti noi che l'età media dei soggetti attinti da provvedimenti cautelari, anche per reati gravissimi come omicidi e distorsioni, è scesa sempre di più. Si tratta di giovani appena maggiorenni. E questo purtroppo dimostra che non si riesce ad uscire da una spirale per cui i giovani vengono allettati da questi facili guadagni o dal mondo in cui vivono. Noi prendiamo atto di questa situazione sperando che prima o poi questo venga a finire. Non compete ovviamente alla magistratura di intervenire su questo settore, però è un dato estremamente preoccupante.